Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove ci sono 2 km di coda per un incidente tra Barberino di Mugello e Aglio, in direzione Bologna. Sulla statale 12 della Betone del Brennero, fino a venerdì 18, in orario 8.14, chiuso in entrambe le direzioni il tratto, in località Popiglio. Per i treni, fino al 30 giugno, durante l'interruzione della tratta via Reggio Lucca, i possessori di abbonamento regionale tra Masta e Pisa potranno utilizzare su questa tratta l'Intercity 501, senza sovrapprezzo. Per il traffico marittimo, codice giallo per mareggiate attorno alle isole dell'arcipelago toscano, possibili disagi e cancellazioni per il trasporto navale. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!